Sono Stella di Amici dei Bambini Moldavia. Siamo qua sul paese da più di vent'anni. Questo dietro a me è il centro per i profughi di Kishnev. Da domani iniziamo a offrire attività di animazione per i bambini e vi accolti insieme alle loro famiglie. Inoltre pensiamo di offrire anche assistenza psicologica alle madri che hanno dovuto lasciare a casa i propri mariti. Sì, abbiamo fatto una veloce visita del centro. Ci siamo resi conto che quegli spazi che sono stati dedicati alle famiglie sono veramente molto stretti. Offrono poco spazio al bambino e all'infanzia. Grazie al vostro aiuto intendiamo organizzare degli spazi gioco per questi bambini in modo tale che la loro vita qui nel centro possa diventare un po' più allegra.